Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa nuova lezione di letteratura proseguiamo il nostro percorso sull'umanesimo e rinascimento, soffermandoci in particolare su un personaggio che ha incarnato a pieno questo contesto culturale, quest'epoca, è stato infatti uno degli uomini politici più significativi del rinascimento e ha incarnato l'ideale del principe umanista. Si tratta di Lorenzo De Medici, meglio noto come Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico nacque a Firenze nel 1449, era figlio di Piero di Cosimo, signore della città e ebbe naturalmente un'educazione molto raffinata, ebbe come maestri maggiori intellettuali umanisti dell'epoca che gli insegnarono, gli trasmissero l'amore per la cultura classica ma al tempo stesso gusto anche per la composizione di versi in lingua volgare. Avevamo già spiegato come il volgare fosse arrivato a piena dignità di lingua letteraria nel 300 grazie alle tre corone della nostra letteratura, Dante, Petrarca e Boccaccio, e come invece l'umanesimo si fosse dedicato con maggiore interesse e passione alla riscoperta delle lingue classiche, quindi del latino e del greco. In Lorenzo il Magnifico troviamo entrambi questi aspetti. Nel 1469 Lorenzo sposa Clarice Orsini, appartenente appunto a una delle famiglie più in vista dell'epoca, una potente famiglia romana, e dalla loro unione nacquero numerosi figli, uno di questi fra l'altro diventerà papa con il nome di Leone X. Nello stesso anno, sempre nel 1469, quindi quando Lorenzo ha vent'anni, il padre muore e Lorenzo prende quindi la guida di Firenze, diventa quindi signore della città in età giovanile. Le sue abilità politiche sono di notevole caratura e Lorenzo persegue una politica estera accorta e abile, volta proprio a consolidare il prestigio della sua città e a garantire degli equilibri strategici politici fra i diversi stati regionali che all'epoca interessavano la penisola italiana. Quindi possiamo proprio dire che in quest'epoca Lorenzo il Magnifico rappresenta l'ago della bilancia della politica italiana. Ecco, oltre a queste doti politiche, Lorenzo il Magnifico ha anche, appunto dicevamo prima, forte insomma di un'educazione di alto livello, ha anche il gusto per le arti, per la letteratura e si comporta proprio da mecenate, quindi raccoglie intorno a sé una vasta corte di intellettuali, di artisti, di poeti e lui stesso si cimenta come poeta e letterato scrivendo molte opere in volgare di vario contenuto. In particolare ricordiamo alcuni testi per rappresentazioni sacre, delle rime d'amore e delle liriche destinate ad essere cantate con accompagnamento musicale. Fra queste abbiamo i cosiddetti canti carnascialeschi, ossia i canti nel carnevale, che sono fra le sue composizioni più note. Si tratta appunto di una raccolta di poesie che erano destinate ad essere interpretate, quindi recitate, ma anche proprio cantate nei cortei musicali durante il carnevale. Celeberry Mol Trigonfo di Bacco e di Arianna, che corrisponde al settimo componimento, quindi alla canzona settima, detta anche canzona di Bacco. Lorenzo Magnifico muore nel 1492. Si tratta di un anno cruciale per la storia non solo d'Italia, ma verrebbe da dire per la storia mondiale. Viene preso come anno spartiacque, possiamo dire, fra l'età medievale e quella moderna. È lo stesso anno in cui viene scoperta l'America da Cristoforo Colombo. Nel 1492, dicevamo, Lorenzo il Magnifico muore e si rompe quindi quell'equilibrio di cui era stato artefici. Da lì in poi la nostra penisola sarà preda delle incursioni straniere. Venendo alla produzione di Lorenzo il Magnifico, ci soffermiamo brevemente sul trionfo di Bacco e di Arianna. Si tratta, come dicevamo prima, della settima canzona della raccolta dei canti carnascialeschi. È un componimento scritto in occasione del Carnevale del 1490 e che ricorda, esprime tutta la consapevolezza della brevità della vita, lo scorrere senza sosta del tempo. Celeberrimo il ritornello, quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Quindi questo richiamo alla bellezza dell'età giovanile e alla sua fugacità, quindi con un chiaro invito ad essere felici fin tanto che se ne ha l'occasione perché non c'è certezza alcuna sul domani. Ecco, nel corso della canzona ritornano vari motivi che si ispirano alla civiltà classica greco-romana, in particolare i personaggi mitologici di Bacco e di Arianna che rappresentano l'amore spensierato, quindi un amore che segue l'impulso naturale, non sicura di quella che può essere la morale, dei limiti imposti ad esempio dalle regole sociali o religiose. Questo sarà uno dei motivi per cui da parte di alcuni esponenti della Chiesa saranno espresse anche delle censure nei confronti di questo tipo di cultura e di visione dell'amore, perché c'è un esplicito richiamo proprio al paganesimo. E con l'altro tema sicuramente caro al mondo classico è quello della fugacità della giovinezza, l'incertezza del domani, da cui deriva appunto un invito esplicito a godere del presente, quindi in un'ottica diametralmente opposta ad esempio da quella che è la morale cristiana, che aveva dominato invece la letteratura medievale o almeno gran parte della letteratura fino a tutto il medioevo. Il modello del magnifico in questo componimento è il poeta latino Orazio vissuto al tempo dell'imperatore Augusto. Augusto sappiamo che aveva la propria corte mecenate, quindi era stato un imperatore che aveva dedicato una grande attenzione alle arti e appunto Lorenzo il Magnifico sia mecenate sia letterato a sua volta, quindi incarna tutte e due le figure, quella di Augusto e quella di Orazio. Comunque da un punto di vista strettamente letterario appunto c'è sicuramente da sottolineare questo rimando a quello che in Orazio era il carpe diem, letteralmente l'espressione può essere tradotta come afferra il giorno, insomma più semplicemente cogli l'attimo, godi il momento. Ecco si tratta di un richiamo, di un tema che è stato ripreso anche ad esempio in ambito cinematografico in anni recenti, ma che è sicuramente un tema caro alla letteratura e più in generale alle arti in tutte le epoche. Ecco anche in Orazio l'invito alla gioia è velato dalla tristezza perché nasce sempre dalla constatazione della brevità e dell'incertezza della vita umana. Queste quindi le tematiche. Per quanto riguarda i personaggi dicevamo prima ovviamente Bacco e Arianna sono i protagonisti di questo trionfo, ossia di questo componimento. Ricordiamo che Bacco è dio del vino, quindi dell'ebrezza e aveva sposato Arianna, figlia di Minosse, rapita e abbandonata da Teseo nell'isola di Nasso dove Bacco l'aveva trovata. Accanto ai due protagonisti in questo componimento troviamo ninfe, satiretti, in generale donne giovinetti amanti, quindi abbiamo una folla di personaggi che vengono tutti invitati dall'autore a godere della vita e della giovinezza. Ciascun suono i balli e canti arda di dolcezza al cuore. Dal punto di vista metrico il componimento è una canzone a ballo di Ottonari, quindi canzone ovviamente è un termine che rimanda all'aspetto musicale e come dicevamo prima esiste proprio una versione musicale quindi contemporanea di autore anonimo ma che sicuramente è stata eseguita più e più volte in questa circostanza. Non possiamo sapere se magari l'autore sia stato lo stesso magnifico o qualcuno della sua cerchia. Canzone a ballo quindi pensata appunto per essere abbinata a dei passi di danza anche semplici da poter svolgere in corteo e i versi sono ottonari. Bene con questo abbiamo concluso questa breve lezione, spero che sia stata utile e vi invito a continuare a seguire il canale. Arrivederci e alla prossima!